Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi mangerò un mega piatto di spaghetti alla bolognese quindi un sugo particolarmente ricco parte della tradizione emiliana non vedo l'ora di iniziare a mangiare questo fantastico piatto guardate i pezzoni di carne 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 Sì. Sì, non è vero. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info in questo servizioso piatto non può mancare la scarpetta chiaramente il sugo alla bolognese è una garanzia sempre squisito appetitoso grazie per aver seguito questo video se il video vi è piaciuto mettete like e commentate iscrivetevi ai miei canali e attivate la campanella arrivederci al prossimo video